Salve a tutti, sono Paola e lei è Silvia. Grazie Paola. Silvia, diamine chiamami Paola. Ma è così difficile. Dov'è il ferro da stiro? Non ricominciare. Siamo in onda. Del Marar. No. Allora salve a tutti carciofi. Oggi parleremo di Lara Croft. Cominciamo dalla sua prima avventura, l'Ocean. 1996. Incaricata da Jacqueline Nattela. Ma Silvia, è quella che è morta proprio ieri dal macellaio più sanguece e meglio mi diverto. Quella alla quale gli ho rapito la bistecca dai denti. Proprio lei, dunque, andò in Peru e si gettò da un ponte, dove c'erano i carciofi. Stupida ma che dici? Lara andò in Peru per prendere l'Ocean. L'Ocean. Ma che è? Un nuovo prodotto della farmacia sotto casa? Io conosco lo Schion. Si scrive Schion ma si legge Schion. Vuoi sempre avere ragione te. Ma dov'è il ferro da stiro? Aspetta che vado in un bagno. Ma il bagno è intassato. No, ferma. Stupida. Fermati. Fine prima parte.